Musica Con il numero 3 Providente dall'Alfai di 2004 Roberto Ben Providente dallo Sporting della Cina Numero 4 Marco Marisella Con il numero 5 Providente dalla città di Guantina Giorgio Piazza Alessandro Pogiorno Numero 6 Maria Pena Andrea Pitelli della Vintus Amina Scala Con il numero 7 Providente da Rocca Massimo All'Atletico Massimo Francesco Fanella Con il numero 8 della Caterina Sport Matteo Patonella E che è il nostro Ringraziamento alla Cosa Intanto alla Sport In maglia blu guidata dal signore Mozart Team Ed una volta che è Mozart Team Maglia Colore Rosso Ci siamo dimenticati giustamente di Riccardo Pagliamello Proebre tra la Società Moffi Le Pini Escusa il titolo è l'oro Adesso passiamo Luzza King Maglia Colore Rosso Pronti Guidate la tantecna con Paglia Paglia Con il numero 1 Vincenzo Cioffi della Formula 1905 Numero 2 Ha indossato la maglia di Moffi Le Pini del Antonio Agostieri Ha indossato la maglia del Pagli 2004 numero 3 Francesco Santoni Maglia nella stagione appena terminata della Sporting e della Cina Pierpaolo Peppe numero 4 Numero 5 dalla città di Pottinia Riccardo Quaresi Maglia numero 6 la Vincissa la Vincenzo Mariano Gianella con il numero 7 anche gli dà la Vincenzo Fabio Sinceni con il numero 8 di Piene Mosca dall'Accademia Sport anche il numero 12 dopo l'esportiva stella Claudio Sacucci La primavera buonasera da Pala Pontinia per l'appuntamento con l'All Star Game le formazioni al centro del campo la Coppa provincia di Latina parte in questo istante il confronto Salate Salate Santoni palla che gli va a soffiare poi c'è il tiro da parte di Pagnaleno adesso Vitelli si libra di Jannella dalla marcatura e subito rimette in movimento Candido in avanti per Buongiorno è di prima in intenzione molto movimento per il giocatore di Monti Lepini Vitelli il tiro Pagnanello recupera il pallone Jannella sotto le gambe a Zappala e si sbrocca il confronto palla recuperata ancora Jannella subito un movimento per Quarisima se ne va sulla destra prova a mettere mezzo il tiro il tiro deviato da Pagnanello Salate adesso si è portato un po' nel reparto più avanzato Zappalava a pescare Parisella bellissimo il gol del pareggio si è avvitato su se stesso recupera Perna se ne va prova anche il tiro Mosca recupera Candido se ne va ancora con Buongiorno smanaccia Cioffi e c'è il gol Peppe poi la perde la sfera la palla messa in mezzo Buongiorno va poi a ripiegare invece Mosca Adesantone si accentra si è liberato adesso il tiro la risposta di Zappalava che respinge Agostinelli all'indietro ma mette in movimento senza saperlo Pagnanello e c'è Cioffi con la risposta si rifugia in calcio d'angolo ancora Giannella intanto disorienta il diretto avversario mette in movimento Agostinelli il tiro la risposta di Zappalava e poi sulla respinta Agostinelli mette la palla in rete Cioffi smanaccia rimette subito in movimento Giannella e adesso c'è il tiro da parte di Sinceri e l'autorete di Candido una serie di finte tra parte opposta dove c'è Pagnanello buongiorno Pagnanello alza troppo buona guardia Agostinelli direttamente tra le braccia di Zappalava il gol dalla sua porta beffa Saccucci con la giusta carica Peppe adesso prova disturbo da parte di Parisella Giannella ci prova recuperare subito a mettere in movimento Giannella ancora Mosca questa volta per Sinceri esce Zappalava Sinceri porta sguarnita Perna buongiorno mette in mezzo per Perna che alza troppo Pagnanello bello il servizio poi c'è Perna ottimo e blu vanno in vantaggio buongiorno all'indietro per Videlli prova la soluzione addirittura il palo e due sopra adesso siamo due reti di vantaggio Peppe Salate Santone si accentra una bordata di Salate Santone accorcia le distanze o meglio non fa capire le sue intenzioni Salate Santone Giannella c'è il pareggio 5 a 5 Salate Santone con Peppe adesso a destra la restituzione verso il centro per Salate Santone il tiro toccato da Zappala si va al calcio d'angolo il team blu con Videlli buongiorno a prova ad accentrarsi carica il tiro troppo fuori intanto siamo sulle parità Giannella soffia il pallone prova la soluzione il diagonale portando i rossi in avanti Patanè Parisella il tiro la risposta di Saccucci Agostinelli ma finisce qui l'All-Star Team in completo rosso batte l'All-Star Team di colore blu per 6 a 5 ed è tutto per questo All-Star Game 2015-2016 vedisci Grazie a tutti.